Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, altro giro, altra corsa, review gameplay, sempre sui Tots della Serie A, stavolta però trasliamo da reparto difensivo a reparto offensivo, infatti dopo aver visto Quadrado, Romero e Teo Hernandez, oggi andiamo a gustarci El Toro, Lautaro Martinez, Lozano e Muriel, quindi due giocatori che è possibile acquistare sul mercato, uno che è una SBC neanche troppo costosa, visto che io sono riuscito a pagarla a zero, con tutte le carte che ormai abbiamo nel senso. Soprattutto dopo la tornata di SBC pazzesca dei Tots della Bundesliga, due giocatori che mi sono piaciuti tanto, un altro un po' meno per motivi che poi ovviamente vi andrò a illustrare più avanti nel video, passiamo subito al recapino statistico e poi andiamo a vedere le clip registrate in game. Primo giocatore che abbiamo qui davanti è Lautaro El Toro Martinez, 1,74m, alto normale, 4 di skill e 4 di piede debole, qua già scatta una piccola campanella d'allarme perché? Abbiamo un giocatore che non eccelle né per quanto riguarda le stelle skill né per quanto riguarda il piede debole, sappiamo quanto è importante quest'anno il 5 per fare un elastico, un reverse, un suola più scupturn, oppure il 5 di piede debole per avere almeno le feels del gameplay di FIFA 20. Sappiamo che è molto più importante la prima componente, però devo dire la verità che Lautaro un po' riesce a soppiantare a queste due carenze, in particolare il sinistro l'ho trovato molto molto solido. Giocatore che si è dimostrato veloce per quello che appare sulla carta, soprattutto in campo aperto, davanti la porta è un finalizzatore implacabile, non mi ha sbagliato alcun tiro plateale, si sente la potenza tiro, tira delle belle saracche. Per quanto riguarda l'agilità, nonostante il 92 di forza è un body type caratterizzato da un po' di ciccio samma, diciamo che Lautaro palla al piede quando deve fare i micromovimenti mi è parso discretamente agile, devo dire, andremo a vedere poi dopo nel complesso come si è comportato. Ma a carattere, diciamo, generale, io a questo Lautaro, considerando anche il prezzo, do un discreto 8 più che tende all'8,5 considerando anche quelli che sono i suoi competitor all'interno di una serie A. Premesso, 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 che se devo scegliere un solo giocatore, ad esempio tra un Cristiano Ronaldo persino base tuttora, scelgo sempre Cristiano. E questo ve l'ho detto, penso, alla noia in tutti i video, soprattutto negli ultimi, dove vi dico, si gioca quest'anno con Ronaldo e altri 10, soprattutto se parliamo di serie A. Secondo giocatore che ho testato è Irving Lozano, 1,75 per lui, alto-basso e Lozano ha finalmente ricevuto la quarta stella di piede debole che prima non aveva e che me lo aveva sempre fatto piazzare un gradino sotto, ad esempio anche Kuluseski. Ovviamente si tratta in questo caso di una NSBC dal prezzo più o meno di 300.000 crediti, io l'ho pagato zero perché avevo un sacco di cose nel club dopo tutte le turnate di pick, bundes garantiti, eccetera eccetera, secondo me l'ho riuscito a fare anche voi tranquillamente a zero. Questo ragazzi è il diavolo messicano, è velocissimo, giocato ovviamente in posizione di esterno-destro, si speedboost alla grande, è stra-agile, ha un ottimo tiro, ha degli ottimi passaggi, ha un ottimo controllo palla, si speedboost bene anche con skill come il tunnel direzionale. Non è ovviamente appesantito da quel 75 di forza che è fachissimo anche se alle volte mi ha tenuto di fisico anche difensori molto più grossi di lui ma visto che ha il baricentro-basso, si sente la sua aggressività. Lozano che gli do un bellissimo voto 9 in pagella perché davvero mi ha colpito, se giocate tanto con i micromovimenti, se giocate a pedalare anche palla lunga sulla fascia, lui è veramente il giocatore che fa il caso vostro. Poi parliamo comunque di un 92 che tanto vale secondo me arrivati a questo punto, se pagate poco, sbloccare e tenere nel club ma anche da super sub perché è veramente un bellissimo giocatore. Ultimo giocatore di questo video è Luis Muriel, probabilmente uno dei giocatori più aspettati all'interno di questo TOTS di Serie A e probabilmente ragazzi a malincuore è quello che mi ha deluso di più. Parliamo di un giocatore di 1,74m con un work rate alto normale, 4 di skill e 4 di piede debole. Anche in questo caso si era vociferato riguardante la possibilità di vedere un Muriel con 5 di skill, cosa che però non è avvenuta, quindi Muriel rimane sempre un po' in quel limbo di giocatore incompleto. Inoltre è quasi 1,80m e ha quel classico body type Muriel, ossia un po' average, quindi paffuto. E questo lo appesantisce tantissimo, di fatti quel 97 di agilità complice anche in questo caso il 92 di forza, vi assicuro che lo attronchiscono non poco. Oggi mi sto sbizzarrendo con i neologismi, Accademia della Crusca, in descrizione trovate i miei social per contattarmi. L'ho trovato anche, devo dire la verità, non così veloce, soprattutto in campo aperto, l'ho trovato un po' compassato nella corsa. Poi non l'ho trovato neanche così tanto letale sotto porta, vedrete delle cose che ho registrato che lasciate proprio perdere da farmi venire i brividi solo al pensiero. Passaggi che non sono neanche così fenomenali, secondo me questo Muriel anche quest'anno è un giocatore incompleto, incompreso, che sarebbe potuto essere ma purtroppo non è. Gli do un 6,5 di stima ma non più di tanto, considerando che comunque parliamo di un giocatore che si attesta più o meno sui 350k, quindi non spiccioli. Detto ciò, terminato il recapino statistico, direi di passare su quelle che sono le clip registrate partendo proprio dal Toro Martinez e proprio partendo dalla sua agilità, vedete qui ricevere all'interno dell'area di rigore palla, guardate come si gira come una trottola selvaggia su se stesso, bing de bung de bang, tiro, incrociare e poi vabbè qua arrivato il Chucky come un rapace sfruttando proprio la sua aggressività di aggredire questa palla vagante e buttarla dentro in agrobazia. Ma quello sulla quale vorrei soffermarmi è l'agilità di Lautaro Martinez, perché guardate quante volte si è girato e rigirato su se stesso e poi grazie a questa conclusione, tra l'altro Miracolo del Portiere, origina la rete di Lozano. Qui possesso palla classico al limite della lunetta, col difensore posto sul lato destro del mio attaccante, con Lautaro che guardate come si speedboosta bene con il tunnel e a differenza di alcuni suoi colleghi anche più illustri, carica immediatamente la conclusione senza avere quel piccolo momento di indecisione che fa slittare l'attimo di tiro e magari favorisce l'intervento del portiere. Quindi mi è piaciuto tanto questo tunnel direzionale di Lautaro Martinez, che appunto permette anche di sopperire un po' alla mancanza della quinta stella skill. Guardate ancora una volta come va a calciare e incrociare col destro, stavolta in precedenza abbiamo visto il suo sinistro, che vi ripeto molto molto solido, dopo essersi costruito ottimamente il tunnel direzionale e avendo lasciato sul posto l'avversario. Quindi tanti applausi per la Taro. Passiamo subito a vedere Lozano e ne possiamo apprezzare immediatamente quello che è il suo speedboost, le sue doti nel controllo palla. Vedete come ha lasciato sul posto più volte l'avversario e poi si è incuniato bene anche all'interno dell'area di rigore palla al piede. Qui sulla fascia l'unica cosa che mi ha lasciato leggermente perplesso è quando ha tanto campo senza lo speedboost, quindi come se non avesse il controllo totale della palla. Guardate quanto se l'allunga, qui per poco non favoriva l'intervento di Marcello che se avesse continuto la sua diagonale sicuramente sarebbe riuscito a intervenire. Però guardate qui quest'altra sequenza perché qui mi entra in aria perfettamente, finta di tornare indietro, vai in avanti, tacco tacco e fulmina il portiere sul primo palo e questo non è un gol semplice perché il portiere era lì praticamente e lui per poterlo battere sfrutta anche il palo tirando, baciando l'interno e insaccando e va anche a mescolare. Qui invece vi faccio vedere il suo tunnel direzionale, mi è piaciuto anche questo, prende bene campo, guardate come davanti a sé si ritrovava Lacroix e viene lasciato sul posto entrando poi in aria di rigore mettendo questa palla dentro che Muriel si cagherà. E questa è solo la prima delle tante occasioni sprecate da Muriel che passiamo immediatamente a vedere. Muriel mi riceve palla al limite dell'aria, tacco tacco, con questo tiro a giro con la palla di sinistro che scivola fuori, parliamo di un giocatore con 4 di piede debole e io non ti sto chiedendo Muriel qui di mettermi la palla nell'angolino però ti sto chiedendo almeno di prendermi la porta, questo è un errore onestamente un po' imperdonabile. Da un errore invece a una giocata pazzesca perché guardate qui in questa giocata di contropiede con il difensore davanti si butta palla in avanti, finta di tiro, però lo vedete come corre, sembra quasi un po' masticata la sua corsa, non mi sembra quel giocatore esplosivo che le statistiche narrano. Quindi sì è vero qua lo lascia sul posto, entra in aria e scarica di sinistro un tiro che non lascia scampo al portiere, quindi passiamo da una giocata ambigua ad un'altra che invece è molto positiva. Così come è molto positiva quest'altra giocata perché qua va a costruirsi il tunnel direzionale e sebbene abbia il difensore davanti che gli recupera il pallone, lui grazie al suo fisico vedete come va a lottare, lo sposta e ancora una volta di sinistro insacca. Qui avevamo addirittura un Alexander Arnold Todi davanti, quindi non proprio il primo difensore che passa. Qui ancora una volta una buona giocata, servito però in campo aperto praticamente all'interno dell'area di rigore, mi è piaciuto questo sinistro destro con Borrol più tiro di prima in tensione. Però ritorniamo alle cose ambigue che secondo me questa carta non dovrebbe avere perché guardate qui, Lautaro lo apparecchia, apparecchia questa conclusione, Muriel si distacca anche dal marcatore, va a calciare e guardate che cosa ne esce, di destro tra l'altro, non può uscire una parabola del genere, qui questo tiro deve andare a insaccarsi, ma no contest proprio, non deve esserci proprio il dubbio perché non ha neanche spostato il portiere e il nostro avversario. Ancora una volta qui, Lautaro manda Muriel in campo aperto, io qui rallento, aspetto il movimento del portiere sul palo opposto, automatico, pensando che il mio tiro è a giro, mi avvicino ancora, faccio un ulteriore passo, ho tutto il primo palo sguarnito e tira una fetecchia, raga, mi ha tirato proprio piano, ma piano, 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 guardate qua, lì mi devi tirare la porta giù, non puoi colpire sulla spalla a Van der Sarke che neanche era riuscito a intervenire. Qui invece guardate quello che vi dicevo in precedenza, il suo controllo, palla, che non è niente di eclatante, guardate quanta fatica fa nello girarsi su se stesso, sembra, madonna mia, sembra che lo stanno traslando, e poi infatti perde anche palla. Qui invece una buona giocata, sempre con il tunnel direzionale, che devo dire, su questo va bene, però guardate qui quanto tempo ci ha messo a caricare il tiro, è stato fortunato che il portiere ha spostato, il giocatore ha spostato il portiere e si è liberato lo spazio, però qui un giocatore che non ti sposta il portiere, ma te lo fa uscire, è Muriel, che ha perso troppo tempo, la palla sarebbe sicuramente poi stata intercettata dall'estremo difensore. Qui invece una giocata finale del toro, dove ho testato il suo tiragiro e questo, diciamo, è il risultato. Mi è piaciuto, è anche consistente sotto questo punto di vista, quanto invece avete visto Muriel, che di sinistra addirittura non ha preso la porta. Quindi, raga, per quanto riguarda anche questo video, è tutto. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se avete testato questi giocatori, che ne pensate da questa review. In descrizione tutte le info per le live giornali sulla piattaforma Viola. domani altro appuntamento, un salutone e un abbraccio al vostro Liberoschi. Ciao.